Nel corso della serata di ieri i carabinieri della stazione di Modica hanno dato seguito a un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di un 26enne di origine modicana ma residente nel comune di Scicli sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di Modica. Il giovane si è reso responsabile del furto di un protafoglio prelevato dalla borsa di una donna all'interno della sala di attesa di uno studio legale della città barocca, violando contemporaneamente anche le prescrizioni afferenti il provvedimento con cui era stata disposta la sorveglianza speciale nei suoi riguardi. Presa coscienza dell'ammanco, la donna, che era in attesa dell'arrivo del marito presso lo studio legale, provvedeva a fare denuncia all'arma di Modica che a seguito di sottoposizione di apposito fascicolo fotografico alla persona offesa attribuiva la commissione del reato al giovane, soggetto già noto alle forze dell'ordine per simili reati, motivo per cui i militari hanno provveduto alla ricostruzione degli eventi e dell'esatta dinamica dei fatti, riuscendo a rassegnare all'autorità giudiziaria l'esatta sequenza cronologica degli stessi. Sulla base di queste evidenze investigative, la stazione di Modica richiesta idonea misura restrittiva nei riguardi degli interessati. A seguito delle previste formalità di rito, il giovane è stato sbosto agli arresti domiciliari.